150 anni di attività per l'Azione Cattolica, domenica grande festa in Piazza San Pietro con Papa Francesco che ha sottolineato proprio la storia di passione che anima l'Associazione, una passione per il mondo e la Chiesa. Ma il Papa ha messo in guardia anche dal non compiacersi per questo importante passato, spronando tutti a continuare ad andare avanti nella missione e guardare sempre al futuro. Ascoltiamo allora le parole del Papa. Cari amici dell'Azione Cattolica, buongiorno! Sono davvero felice di incontrarvi oggi così numerosi e in festa per il centocinquantissimo anniversario di fondazione della vostra associazione. La nascita dell'Azione Cattolica italiana fu un sogno nato dal cuore dei due giovani, Mario Fanni e Giovanni Acquaderni, che è diventato nel tempo cammino di fede per molti generazioni, vocazione alla santità per tantissime persone, ragazzi, giovani, adulti, che sono diventati disceppoli di Gesù. E per questo hanno provato a vivere come testimoni gioiosi del suo amore nel mondo. Anche per me è un po' area di famiglia. Mio papà, mia nonna erano dell'Azione Cattolica. E' una storia bella e importante per la quale avete tante ragioni di essere grati al Signore e per la quale la Chiesa vi è riconoscente. E' la storia di un popolo formato da uomini e donne di ogni età e condizione che hanno scommesso sul desiderio di vivere insieme l'incontro con il Signore. Piccoli e grandi, laici e pastori, insieme, indipendentemente dalla posizione sociale, dalla preparazione culturale, dal luogo di provinenza. Fedele laici che in ogni tempo hanno condiviso la ricerca delle strade attraverso cui annunciare con la propria vita la bellezza dell'amore di Dio e contribuire con il proprio impegno e la propria competenza alla costruzione di una società più giusta, più fraterna, più solidale. E' una storia di passione per il mondo e per la Chiesa. Io ricordavo quando vi ho parlato di un libro scritto in Argentina nel 1937 che diceva «Azione cattolica e passione cattolica». «Êll'え?», editingino la partiche di SAGE»